Perché Mazda? Si chiama proprio Mazda? Come tante aziende giapponesi, il nome deriva dal suo fondatore. Ma in questo caso c'è l'inganno della Kadrega. Ovviamente una parola giapponese. Jujiro Mazda è stato il fondatore e il suo cognome si scrive così. Matsu. Da. Il mio dizionario del 1518 dice che Matsu è Pino, mentre questo Da rappresenta una risaia. Pino delle risaie! Ah no, quello era Pino dei palazzi. L'inganno della Kadrega arriva ora. Perché il nome dell'azienda è scritto in katakana. Che vi ricordo essere l'alfabeto fonetico per traslitterare parole straniere. Ma. Su. Da. Il nome viene scelto pensando a Ahura Mazda, l'unico dio della religione zoroastriana. Chiamata anche mazdaismo. Questo dio rappresenta armonia, intelligenza e saggezza. E tu? Lo sapevi? Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e seguimi. Non sotto casa, ma seguimi. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.